Bene, abbiamo qui una reazione che probabilmente già conoscete bene, due sostanze reacenti, una è quella che sto tenendo in mano adesso, è il bicarbonato, un ione negativo, di sodio, l'ione monoatomico positivo, poliatomico, monoatomico. L'ione bicarbonato è H, questo atomo sarebbe l'atomo di idrogeno, quindi bianco, C, quello centrale di carbonio nero e tre ossigeni intorno, quindi HCO3- per indicare la carica complessiva che tutto questo aggregato di 5 atomi possiede e con un Na+, abbiamo la formula del bicarbonato di sodio NaHCO3. Questa carica positiva si attrae con questa negativa, quindi per tenere tutto solidamente in mano le faccio unire insieme. Sono calamitate. L'altra sostanza con cui faremo reagire il bicarbonato di sodio è l'acido acetico, questa è una molecola di acido acetico dove si trova nell'aceto. Nell'aceto ci sono 60 grammi per ogni litro di questa sostanza. La sua formula è CH3, quindi abbiamo un carbonio con tre idrogeni, C, un altro carbonio in mezzo, più due ossigeni e un idrogeno, quindi CH3COOH. Questo è il modo con cui viene scritta solitamente questa sostanza, la cui molecola è formata da questi otto atomi di questi tre elementi, idrogeno, carbonio e ossigeno. Quando le due sostanze reagiscono insieme, formano un sacco di schiuma e questo è tutto quello che si vede, la temperatura si abbassa un po', quindi una reazione endotermica e otteniamo dei prodotti finali alla fine di questa reazione, di cui uno è la causa dell'effervescenza. Adesso facciamo un piccolo stop e vi faccio vedere le strutture molecolari anche dei prodotti. il primo prodotto è questo, questa è una molecola di aniride carbonica, quindi CO2, sistemata in maniera da mostrare e evidenziare la sua struttura lineare, infatti i due atomi di ossigeno O e O della CO2 appunto e quello di carbonio sono esattamente allineati, formano una struttura perfettamente lineare. Però siccome questa è complicata da mettere insieme e da manipolare, preferirò utilizzare per questo esperimento simulato, per questa simulazione, una molecola ad angolo, almeno i pezzi si tengono uniti più facilmente. Questa quindi è la sostanza gassosa che va a riempire le bolle mentre avviene l'effervescenza. E' chiaro che questi tre atomi provengono dagli stessi reagenti che prima abbiamo mescolato e fatto reagire. L'altra sostanza è quella che abbiamo fatto cristallizzare, cioè una sostanza che ha una grandissima solubilità in acqua, molta più del bicarbonato e la particolarità di formare soluzioni soprassature, cioè che sono poco stabili ma si riescono ugualmente a fare delle soluzioni in cui c'è più sale rispetto alla quantità massima, più sostanza sciolta. Questa sostanza è l'acetato di sodio. Come vedete l'acetato ci ricorda che in qualche modo assomiglia all'acido acetico, cioè un CH3, un altro C, quindi CH3C, O, O e poi c'è, questa volta non è più molecolare come era l'acido acetico, ma è ionica, quindi abbiamo due ioni, uno poliatomico che è l'ione acetato, che è molto simile all'acido acetico di prima, solo che non c'è un idrogeno che prima stava magari qui, e uno ione sodio, quindi questa è la sostanza cristallina che è molto solubile in acqua, che forma dei lunghissimi aghi e che cristallizza facilmente da soluzioni soprassature, acetato di sodio. La terza sostanza invece è meno percepibile, perché è semplicemente l'acqua, quindi erano in tutto 14 atomi, abbiamo l'undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo e il quattordicesimo atomo di quelli che abbiamo mischiato all'inizio, messo a reagire più che mischiato all'inizio, quindi si forma altra acqua, una piccola quantità di acqua in aggiunta a quella che già era presente nell'aceto, non abbiamo utilizzato acido acetico puro, quindi c'era già dell'acqua nel miscuglio di reazione, ma in questo caso se ne forma altra come terzo prodotto, quindi due sostanze reagenti, acido acetico e bicarbonato di sodio, tre sostanze prodotte, acqua, acetato di sodio e anidride carbonica. Adesso quello che dobbiamo capire è come avviene la reazione, cioè durante, come fanno gli atomi a trovarsi disposti in una certa maniera prima della reazione e a trovarsi disposti in un'altra maniera dopo la reazione. Due sostanze prima, tre sostanze dopo, ma in mezzo che cosa succede? Tra un attimo vedremo due possibili modelli, due possibili modi in cui le reazioni chimiche procedono e vanno. Ecco qua, abbiamo le nostre due sostanze reagenti, l'acido acetico, la molecola intatta dell'acido acetico e qui l'unità formula del bicarbonato di sodio, cioè HCO3-Na+. Li uniamo per fare vedere che le due sostanze sono ancora integre e adesso vediamo il primo modello possibile per spiegare quello che succede durante le reazioni chimiche. Nel primo modello è molto semplice, tutti gli atomi si smontano formando frammenti completamente separati l'uno dall'altro. Quindi abbiamo fatto un gioco di costruzioni, adesso lo smontiamo completamente e poi riprenderemo gli stessi 14 atomi per montare, atomi in qualche caso anche ioni come lo ione sodio qui, e li rimonteremo, li rimetteremo insieme per ottenere le stesse molecole, non le stesse molecole dei reagenti iniziali, ma le molecole delle sostanze prodotte. Ed ora la magia, et voilà, i nostri atomi completamente separati si sono ricombinati ed ora hanno formato le molecole dei prodotti. Qui vediamo il nostro acetato, struttura molto simile a quella dell'acido acetico, in cui però qui abbiamo la carica positiva del sodio e l'ione acetato. Abbiamo qui la molecola d'acqua, abbiamo qui la molecola di aniride carbonica. Una domanda che ci possiamo porre è ma da dove viene questo atomo di carbonio? A un certo punto gli atomi di carbonio erano tutti quanti sparsi, quindi non possiamo stabilire se questo veniva dall'ione bicarbonato oppure se era un atomo di carbonio che inizialmente apparteneva all'acido acetico, dove ce ne erano due, e se apparteneva all'acido acetico come facciamo a sapere se era quello legato ai tre atomi di idrogeno o quello legato ai due atomi di ossigeno. Quindi in questo modello possiamo prevedere che ci sia una certa casualità maggiore nel modo di riattaccarsi degli atomi. Quindi si sono formati comunque i nostri tre prodotti. Adesso tra un attimo andiamo a vedere invece il modello B, cioè un altro modello in cui ciò che accade durante la reazione segue un percorso diverso. Ok, vediamo questo secondo modello di reazione chimica. Abbiamo qui il nostro bicarbonato di sodio con gli ioni positivo e negativo. Abbiamo di qua invece la molecola di acido acetico. Chiaramente qualcosa dovremmo smontare però stavolta smontiamo solo, non smontiamo completamente gli atomi, atomo per atomo, tutte e due le strutture. Per esempio potremmo togliere questo ione sodio che stava legato nel bicarbonato, togliere tutto questo group, questo atomo di idrogeno e quindi avremo adesso l'ione negativo acetato e l'ione positivo di sodio. Quindi già abbiamo ottenuto con questo semplice scambio l'acetato di sodio e lo mettiamo da parte. Poi continuiamo la nostra impresa qui di modificare, ecco questi ioni positivo e negativo che si attaccano, di modificare anche la struttura degli altri due pezzi rimanenti. Quindi qui possiamo separare questo gruppo OH e mettere l'altro idrogeno che avevamo tolto, stava dove attualmente c'è il sodio e lo mettiamo qua e abbiamo ottenuto in un colpo solo la molecola di acqua e la molecola di anidride carbonica. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto degli smontaggi parziali delle nostre sostanze di partenza che hanno portato alla formazione degli stessi prodotti. Ovviamente il metodo che ho utilizzato per arrivare a questi prodotti poteva anche essere diverso da questo, poteva richiedere anche qualche passaggio in più o uno smontaggio più profondo delle strutture di partenza. In questo caso ho trovato, ho cercato semplicemente la strada più veloce possibile. Quindi metodo A o metodo B? In questo secondo metodo noi possiamo dire che, almeno in questo caso, l'atomo di carbonio, questo che va a finire nell'anidride carbonica, è lo stesso che prima stava all'interno dell'oione bicarbonato e dall'oione bicarbonato si è staccato il terzo ossigeno che è quello che è andato a formare l'acqua. Quindi sta a voi adesso immaginare che cosa possa accadere mai in un sistema chimico come questo che vedete qui, dove ci sono un po' di prodotti che si sono formati, tipo l'acetato di sodio, eccolo qua, e una molecola di anidride carbonica, eccola qua, una molecola di acqua e un po' di molecole che invece devono ancora reagire e che tutte queste molecole, acido acetico, bicarbonato di sodio che sono in movimento, si urtano tra loro e alla fine producono la completa trasformazione del bicarbonato di sodio e della parte di acido acetico che si è consumata, se l'acido acetico era in eccesso o viceversa, cioè alla fine non avanza più nulla in questo ambiente di relazione. Quindi sta alla vostra capacità di immaginazione pensare che cosa potrà succedere quando tutte queste molecole, miliardi e miliardi di queste molecole, sono contemporaneamente tutte attive e tutte si stanno trasformando. Quale dei due modelli è quello più plausibile? Il modello A, cioè smontaggio completo di tutti gli atomi, oppure il modello B, smontaggio parziale, che può seguire vari diversi possibili percorsi, vari diversi processi, diversi di smontaggio. E questo quindi è tutto, è sufficiente per riflettere.